Ciao a tutti, in questo video, vi presento le anticipazioni di Terra Amara per le puntate che andranno in onda dal 21 al 24 luglio. Zuleya sta scappando con i suoi bambini, ma la sua felicità e i suoi sogni futuri con Ilmaz vengono improvvisamente distrutti quando qualcuno si frappone sulla sua strada. Prima di continuare, se il video vi piace, lasciate un bel, mi piace, e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ripartiamo. Nel crepuscolo, Ilmaz e Zuleya si ritrovano nella graziosa villa, entrambi con l'animo inquieto. Ilmaz nutre ancora dei dubbi nei confronti di Ankar e non è completamente convinto della sua sincerità. Ankar è colui che ha sottratto la felicità alla coppia, ma ora afferma di volerli aiutare. Tuttavia, Ilmaz trova difficile credere veramente alla sua buona volontà. La coppia discute anche della necessità di separare e riunire Mugeigan dai loro figli, consapevoli che sia una decisione dolorosa. Inaspettatamente, Ankar bussa alla porta accompagnato da Adnan e Leila. La signora Yaman, contro ogni aspettativa, si rivela essere l'alleata più affidabile della coppia in quella atmosfera familiare. Ilmaz viene incaricato di catturare quel momento prezioso con la sua macchina fotografica. All'alba successiva, gli uomini di Ankara pianificano di eliminare definitivamente Fekeli. Decidono di incendiare il mulino e cogliere di sorpresa il padre di Ilmaz quando si recherà lì. Uno di loro sussurra con determinazione. Non possiamo sbagliare questa volta, Fekeli deve morire. Finalmente, giunge il tanto atteso giorno della fuga. Ilmaz dice addio a Fekeli, sapendo che sarà l'ultimo incontro tra loro. Con gli occhi lucidi di commozione, il giovane abbraccia affettuosamente il suo padrino e piange dalla commozione. Confuso dalla situazione? Fekeli domanda. Oggi festeggiamo qualcosa? Ilmaz cerca di minimizzare la questione, dicendo che deve essere un giorno speciale per abbracciare suo padre, mentre sorride consapevole di partire per un luogo lontano. Fekeli, al contrario, non può nemmeno immaginare di non poter rivedere suo figlio per un certo periodo di tempo. Successivamente, Ilmaz affida a Fikrette il pieno controllo dell'azienda, dimostrando fiducia nelle sue capacità. Gli consegna le chiavi dei negozi e perfino quelle della cassaforte, giustificando la sua richiesta con il fatto che starà via per l'intera giornata e potrebbe perderle. In seguito, si reca a casa di Fekeli per prendere il figlio, il quale si trova insieme a Baze. Nella serata precedente alla fuga, la coppia protagonista aveva trascorso il loro ultimo momento in famiglia con Ankar. Demir non poteva ancora vivere nella villa, mentre Mugeigan era impegnata nel suo nuovo ruolo di direttrice dell'ospedale. Tutto sembrava procedere per il verso giusto. Ilmaz arrivò a casa di Fekeli con l'intenzione di portare con sé Kerem e Baze. Al momento, stava prendendosi cura di lui ed era sorpreso di trovarlo tornato a casa così presto. Ilmaz desiderava trascorrere un po' di tempo da solo con suo figlio e gentilmente rifiutò l'offerta di Baze di accompagnarlo al parco. Voleva evitare di destare sospetti e decise di non portare nulla con sé. Con l'aiuto di Gulten e Ankar, Zuleya lasciò discretamente la villa insieme ai suoi figli. Nel frattempo, Ilmaz la aspettava ansiosamente con il piccolo Kerem nel luogo concordato, dove si sarebbero riuniti per partire insieme, lontano da Kukurova, alla ricerca di un luogo dove iniziare una nuova vita piena di felicità. Tuttavia, mentre Zuleya viaggiava gioiosamente con i suoi bambini, la sua felicità e i suoi sogni futuri con Ilmaz vennero improvvisamente distrutti. In un attimo, tutto svanì quando qualcuno si frappose sulla sua strada, tagliando il percorso con il proprio veicolo. Improvvisamente, Demir fermò la sua macchina, molto arrabbiato, e chiese a Zuleya dove stava andando, notando il suo atteggiamento frettoloso. Demir era venuto a conoscenza del loro piano di fuga e con grande violenza e minacce la costrinse ad andare nella nuova dimora acquistata per Sevda, annullando così il loro piano di fuga verso la Germania. Era trascorso parecchio tempo da quando Ilmaz era partito con Kerem. Preoccupata, Beis decise di chiamare l'ospedale per informare sua nipote di quanto stava accadendo. Convinta che Ilmaz possa aver rapito Kerem, presa dal panico, lascia immediatamente l'ospedale per raggiungere Fecheli. Quando arriva in azienda, domanda ansiosamente a suo padre. Papà, dove si trova Kerem? Mugeigan inizia a diventare nervosa e dice, spero che Ilmaz non abbia portato via mio figlio. Fecheli cerca di rassicurarla, spiegandole che Ilmaz è il padre del bambino e ha il diritto di trascorrere del tempo con lui. Appena arrivati a casa, Beis comunica loro che Ilmaz e il piccolo non si sono ancora presentati. La dottoressa inizia a perdere la calma, ma Fecheli ha piena fiducia nel suo figlio. Mugeigan decide di chiamare Ankar per esprimere le sue preoccupazioni. Ilmaz arriva con Kerem, poiché il suo piano di fuga non è andato come previsto. Nel frattempo, Demir accompagna Zuley a casa di Sevda, esprimendo la sua furia. Stavi pensando di andartene con Ilmaz, afferma con rabbia. Sevda cerca di calmarlo, ma i suoi sforzi sono inutili. Ho sacrificato tutto per te. I miei soldi, la mia casa e il mio amore. Ti ho dato la mia anima, ma non è stato sufficiente. Dove pensavi di scappare con lui? Chiede Demir. Esausto. Non ho intenzione di inseguirti. Vai con Ilmaz. Ma i miei figli rimarranno con me, sottolinea. Zuley a rimane in silenzio, temendo di perdere nuovamente i suoi figli. Zulia e Ilmaz decidono che è il momento di dire basta alle fughe. Chiederanno il divorzio, anche per il bene dei loro figli, così non dovranno separarsi dai genitori. Ilmaz, parla con Mugeigan, la quale, però, nega il suo consenso. Lei è figlia di genitori divorziati e non intende consentire che Care Mali viva ciò che ha passato lei. Anche la Alton parla con il marito, ma anche lui nega il suo consenso a lasciarsi. Le anticipazioni terminano qua. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao! Amara.